Venerdì 17 che non vogliamo sia famoso semplicemente per essere venerdì 17 ma ricordiamo che oggi 17 maggio è la giornata internazionale contro l'omofobia e la transfobia promossa dall'Unione Europea nel 2007 e celebrata ogni anno 17 maggio quindi numerosi eventi e manifestazioni sono organizzati in giro per il mondo per sensibilizzare le persone verso il problema, perché è un problema dell'omofobia e smuovere le coscienze al fine di prevenire il fenomeno allora vogliamo così proprio snocciolare un dato raccontare che l'Italia è al terzo ultimo posto su 27 paesi nella classifica per la difesa dei diritti LGBTQI ecco siamo veramente non messi male di più e pensare al giorno d'oggi